Ciao ragazzi e bentornati di nuovo sulle storie di Federico. Oggi andremo nel laboratorio di Strambik e nello scorso episodio invece abbiamo iniziato il entrato in questo hotel Miramostri. Ehi, benvenuto nel mio laboratorio. Eh sì, è un grande delle mie stabilanti invenzioni. Un laboratorio portatile, solido, sicuro e climatizzato. Ero certo che un giorno ne avrei avuto bisogno. Ho fatto proprio bene a portarlo, no? Vuoi sapere che cosa ci faccio io in questo hotel? È una storia lunga, ma per farla breve. Sono stato ingannato, come tutti. Ho ricevuto un invito da una persona che sostiene di essere la proprietaria dell'hotel. Diceva di avere una preziosa collezione di fantasmi, provenienti da tutto il mondo. Nessuno studioso di fantasmi che si rispetti incredibilmente un'offerta simile. E così ho accettato, ma appena arrivato, beh, mi sono ritrovato in trascola. Sono stato catturato e mi hanno sottratto la mia preziosa collezione di fantasmi. Oh no! Ai, ai, ai! Si sono presi anche tutti quelli che hai catturato per me in passato, vuoi dire quelli di Luigi il Mansion 2? Persino Rebù! Perdere quell'esemplare è stato un duro colpo. Era il mio preferito. Anche il mio. Cosa? Hanno liberato Rebù? Ah, quella sottospatrice di palpetaria. Che disastro ha combinato. Luigi, sei la mia unica speranza. Solo tu puoi tirarmi fuori da questa situazione incresciosa. E tu vedi? Devi assolutamente recuperare la mia collezione. Zinga, Luigi, vado. Già che ci siamo, per un argomento, dammi pure i fantasmi che ti ha atturato finora. Va bene. Quindi ti do i fissi fantasmi e benvenuto? Ehi, perfetto. Continua a catturare gli spettri che incontri. Oh, e ricordati di tornare al laboratorio ogni tanto. Oh, intanto prepara la galleria. Così potrai passare in ora al segno a quelle che hai catturato. Ehi, cos'è quella faccia? Luigi, ho dimenticato qualcosa di importante? Oh, hai ragione. Mi sono un salvaggiaggio dei tuoi familiari e amici. Rimedio subito sia per trovare i fantasmi che... Per salvare i tuoi amici dovrai esplorare l'hotel. Per facilitare la tua missione ti darò una delle mie più grandi invenzioni. L'ho chiamato... Lui la chiamo il virtual boo. Vedi in breve. Noi lo chiamo però virtual boo. E' un visore all'avanguardia per la realtà virtuale dotato di un schermo rosso. Il rosso poi è all'ultimo grido sai. Sì, sì, sì. Odore. Wow. Devi... Nel virtual boo in qualsiasi momento del comunicare con me. Yabu, yabu. Poca bianca più. Premi più per guardarsi nel virtual boo. Li porterai anche visualizzare. Ho anche un'altra cosa da darti. Ecco. Prima di tutto dovrai installare questo pianificatore nell'ascensore. D'accordo? Va bene. Di che si tratta? Te lo dirò più tardi. Per il momento penso installarlo. No, voglio forza. Allora, mi ricetta all'ascensore. Conto su di te, Lui. Tutto. Esplora l'hotel. Ok, andiamo all'ascensore allora. Qua abbiamo sconfitto ben venuto. Adesso non c'è più. Ma non è che c'è ancora quella maschera? Pazza? No, non c'è più una maschera patta. Oh! Un nuovo sistema! E vediamo cosa serve. Proviamo. Puoi lanciarlo sulla valiglia. Vediamo cosa fai. Vediamo. Ah! È l'osturo lavandini. Andiamo all'ascensore. Oh mamma, ci sono troppi ragni. Ok, speriamo il tutto. No, 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 no. Perché mi è chiuso? Ascensore. Non ti voglio mai più. Ok, dovevo installare quella storia. C'è l'ho fatta. Filippo, abbiamo installato. Ecco cos'era. Ciao Luigi, ce l'hai fatta a installarlo. Ora posso spiegarti a cosa serve. È in grado di estrarre dall'ascensore i dati riguardanti alla mappa del classico. Si elabora e poi l'invio al monitor. Non è fantastico? Facciamo una prova pratica. Prendi il pulsante dell'ascensore che hai trovato e inserisci nel pansello. Va bene, quelli che c'erano dentro, benvenuti. Ragazzi, si sono infilati da soli. C'è. Uno si è infilato da soli. Vediamo questo. Anche questo. Si infilano così i pulsanti dell'ascensore. Oh yeah. Ora puoi vedere la mappa del nuovo piano. Le sorprese non sono ancora finite. Luigi, il pianificatore si collega al VirtualBoo. I dati della mappa vengono inviati in automatico al VirtualBoo. Così potrai visualizzare ovunque ti trovi, in qualsiasi momento. Se apri la mappa nel menu del VirtualBoo, potrai vederne una più dettagliata. Spero che non te ne dimenticherai. Insomma, Luigi, la mappa è davvero ultimissima per esplorare a fondo dei piani. Mentre esplori l'hotel, tieni gli occhi aperti. Devi trovare i pulsanti dell'ascensore mancanti. Con quei pulsanti avrai accesso ad altri piani, tutti da esplorare. Dove potresti trovare tutti i tuoi amici? Un'altra cosa, prima che tu vada, Luigi, dobbiamo fare una breve test del sistema di comunicazione del VirtualBoo. Apre il VirtualBoo con più e seleziona su Strambic. Conto subito, Luigi. Va bene. Prova, prova. Un, due, tre. Qui, Strambic, scienziato generale. Mi senti forte e chiaro? Eccellente! Il sistema di comunicazione del VirtualBoo funziona perfettamente. Lo puoi usare per contattarmi in qualsiasi momento. Quando vuoi pararmi, fai esattamente quello che hai fatto ora, per la prova. Con lo stesso sistema. Vabbè. Ora puoi andare all'ascensore, al piano 5. Vero, la mia stanza era proprio su quel piano. Nella stanza c'è una valigetta. Potresti andare a prendermela, Luigi? Certo, Strambi. Il numero della stanza è... Oh, non mi ricordo. Ma tanto hai la mappa. La troverai di sicuro. Ok, va bene. Andiamo al piano 5. Quando arriviamo, vedete quella linea bianca che poi diventano in là? Quello è... Se rimane la linea bianca per un po' vuol dire che sei arrivato a quel piano. Tu. Il piano 5. Pioggia. Cioè, ma è tutto di prima, c'è. Dello scorso episodio. È vero! Il piano 5 è il piano dello scorso episodio. E perché c'è questo divano? Ah, Luigi, ho dimenticato di dirti una cosa. Il tuo partner G0M dispone di una nuova funzione che io chiamo colpo ventosa. Ti servirà come arma per la tua avventura. Premendo i... Ah, lo sappiamo già, Strambi, che basta, non ci serve. Ok, adesso andiamo a prendere la valgetta. Questa per caso è la valgetta. No, però... Prendiamo questi soldini, sonanti. Ok, non è che per di qua. Uh! Cos'è? Ci andremo dopo, però. Che è andato via con l'affare? C'è odore di fiume fantasmi qua. Non è che è questa la stanza? Non vedo la valgetta di Strambi. Allora, mi piace. Però si può entrare nel bambino. Ok. Per me è la c... Forse questa G0M si può prendere con questo. Proviamo un'altra volta. Sì! Presa! È la terza e ultima G0M. Vediamo qua. Uh! Un fantasma! Bravo! Perché te lo sei mangiato, il bambino? Ah, ti lavi i denti. Ma... Sì! Scusa! È un fantasma perché ti lavi il sederino con lo spazzolino? Dopo lo vado a stordire. Ok. E temo qua dentro. Qua c'è una specie di pallina di bambino. Uh! Facciamola andare là dentro. Eh, vabbè, non puoi. Andiamo a scompiggere il fantasma. Oh, mamma, ci sono i fantasmi. Sconfiggiamoli e poi li salutiamo. Questo è lo sconfitto. E questo... Anculte! Boom! Stamore! E... Ci vediamo nel prossimo episodio! Ciao, ciao!